La situazione ormai sembra tranquilla. Già da ieri sera, per la verità, infatti in serata, tutti gli immigrati che occupavano le due fabbriche di smesse a Rosarno sono stati portati via, caricati a bordo di Pullman, che li hanno accompagnati presso vari centri di accoglienza. Nella notte un altro centinaio è stato prelevato nella vicina Rizziconi e la notte poi è trascorsa tranquilla. Chiaramente il presidio delle forze dell'ordine continua per le strade, è un continuo via vai di macchine, di carabinieri e polizia perché l'attenzione necessariamente deve rimanere alta. Ieri le proteste e le tensioni, soprattutto da parte dei cittadini di Rosarno che, ricordiamo, volevano che gli immigrati andassero via, soprattutto un gruppo di cittadini davvero arrabbiato che aveva anche bloccato la Statale 18 per due giorni. Oggi, anche da questo punto di vista, la situazione è molto più tranquilla però c'è comunque rabbia tra tanti cittadini che sono stufi di sentire parlare di Rosarno come di una città razzista. Noi ne abbiamo incontrati alcuni, anzi sono loro stessi che si sono avvicinati ai nostri microfoni. Mi sentite quello che ci hanno detto? L'abbiamo sempre aiutato, a queste qua, a questa gente, l'abbiamo sempre aiutato, ci abbiamo portato a mangiare panni addosto, coperte, tutte cose. Andate dove vivono, dove vivono non lo abbiamo portate noi. Vogliono vivere loro in quel modo lì, perché loro sono abituati a vivere in quel modo. Erano tranquilli, andavano a fare spesa, tutto normale, regolare, come la gente normale, regolare. Era tutto regolare, passavano a frotti, chi andava, chi veniva. Era una vita tranquilla pure per loro. E allora perché poi alcuni cittadini di Rosarno li hanno aggrediti? Ma non lo so, dicono che li hanno sparati come una carabina, ma forse questi erano ragazzini, lo so. Una cosa da recompressa era, non è che era un fucile o una pistola.